Questa è casa mia. Per me non si tratta solo di un luogo fisico, è anche un posto nel cuore. Un posto in cui ogni volta che torno mi sento a casa, in famiglia. Eppure ho lasciato questo paradiso. Non mi è mai piaciuto il modello di vita della società in cui viviamo, fondato sull'individualismo, consumismo e competitività. Una vita spesso scollegata dal cuore e lontana della natura. Una vita con pochi alberi e tanto cemento. Una vita in cui spesso rinuncia ai tuoi sogni e alle tue passioni in nome di uno stipendio. Così ho voluto prendere in mano la mia vita. Nell'ultimo anno ho lavorato come dipendente, mettendo da parte più soldi possibili, vivendo con un budget di 200 euro al mese. Ho venduto la mia cara macchina, ho comprato una bici, l'ho montata, sistemata, l'ho provata. Ho preparato tutta l'attrezzatura necessaria per il viaggio. Ho mollato il lavoro a tempo indeterminato e ho preso la decisione più difficile ma più importante. Partire in sella alla mia bici alla scoperta di realtà alternative. Viaggerò in tutta Italia per visitare gli ecovillaggi e per raccontare la vita da un punto di vista diverso. Da qui in poi inizia un nuovo capitolo della mia vita e voglio condividerlo con te. Un abbraccio. Grazie a tutti.